Leggo queste poche righe di una precaria dei didi comunali, scritta ad agosto, che oggi è disoccupata non avendo avuto il rinnovo del contratto perché la graduatoria del 2008 non è stata prorogata nell'ultima legge di stabilità. Semplicemente vorrei ricordare, come ogni estate, da 15 anni e più, l'angoscia che a questo punto arriva. Che ne sarà di me? Mi ci chiameranno? Dopo quasi 20 anni di precariato, prime supplenze nel 2000 e quest'anno la certezza di essere lasciate a piedi, l'assicuro che è veramente spiazzante. Abbiamo donato un pezzo, anzi un lungo pezzo della nostra vita al Comune di Rimini, sempre un po' in ansia, ogni anno, nella speranza di lavorare senza mai avere il diritto e la dignità, la tranquillità, che a tutti a un certo punto della vita è dovuta. Sarebbe bello credere che ci venga riconosciuto ciò che abbiamo fatto, che dopo tanti anni di duro lavoro, di fatica, di soddisfazione, di forti riconoscimenti da parte dei genitori che ci affidano i loro gioielli, di tanti pianti ma anche di tante risate, ripeto sarebbe bello, anzi sarebbe giusto sapere che il nostro Comune ci consideri e tuteli per tutto ciò che abbiamo fatto e soprattutto creduto. Parole toccanti di una donna che dopo averla fatto il precario a vita si ritrova a 53 anni senza un lavoro e senza un futuro. Ma in questa situazione ci sono anche le precarie che lavorano grazie alla graduatoria a tempo determinato del 2016. 12 donne, ma sono anche di più, che da oltre 11 anni lavorano nei diri comunali e che se non verranno stabilizzate prima della scadenza della graduatoria a novembre 2019 si ritroveranno senza un posto di lavoro. Eppure il decreto legislativo Madia del maggio 2017 parla di superamento del precariato nell'APA ed esiste specificatamente per il personale scolastico una norma nella legge del numero 160 2016, dell'articolo 17. Le norme ci sono, ma manca la volontà politica di stabilizzare queste donne che tanto hanno dato al Comune, in barba ai vari proclami di tutela del lavoro femminile e delle pari opportunità. Un'ulteriore questione riguarda gli ausiliari del traffico. Ne sono rimasti quattro, del tutto insufficienti per qualsiasi attività operativa, tant'è vero che non vengono nemmeno utilizzati come ausiliari, ma per varie attività interne e a quanto risulta alcuni di loro stanno già meditando di chiedere il trasferimento ad altri uffici comunali. La Will FPL con CGL e CISL hanno proposto all'amministrazione di utilizzare il concorso riservato ex legge Madia per trasformare da B3 da ausiliari del traffico in C1 agenti di polizia municipale. Vista la carenza strutturale, l'amministrazione del giugno scorso aveva confermato l'intenzione di procedere a tal concorso, vista la carenza strutturale di agenti di IPM e che queste quattro unità sono figure già formate. Tale concorso riservato ha il vantaggio di non costare nulla o quasi rispetto a un concorso pubblico che costa decine di migliaia di euro e anche di più. Pertanto sono a chiedere se il Comune intende stabilizzare le precarie di lungo corso dei lidi comunali delle graduatorie del 2008 e del 2016 utilizzando il decreto legislativo Madia, riconoscendo come servizio prestato anche quello effettuato verso la sballoni. Se il Comune intende bandire un concorso riservato di quattro posti per trasformare gli asiliari del traffico in servizi di agenti di polizia municipale. Io sono stato un precario per otto anni, anzi dieci, due anni di LSU e otto anni all'Agenzia del territorio e capisco le difficoltà dei precari. È una vita non facile, è una vita senza mutuo, perché le banche non ti danno il mutuo se sei precario, perché non puoi fare una famiglia a meno che non vai a rischiare o è un'altra possibilità. È una vita effettivamente sempre in bilico. Capisco questa donna che ha 53 anni deve arrivare a 67 per arrivare alla pensione e che si ritrova in questo momento in mezzo a una strada. Quindi io direi che un esame di coscienza da parte del Comune andrebbe fatta. Adesso c'è la possibilità di assumere. Queste persone non possono essere considerate anziane o vecchi, non idonee a un lavoro che hanno prestato per 20 anni e per cui bisogna favorire qualche giovane. Bisogna dare riconoscimento al lavoro che hanno prestato. Sia l'amministrazione comunale di Rimini e sia io nella mia veste attuale di assessore al personale abbiamo da sempre attribuito molta importanza al lavoro svolto da tutti i dipendenti comunali ed ovviamente anche al lavoro svolto dai precari. Per scelta consapevole e coerente con le norme di legge vigenti questa amministrazione ha proseguito sulla via già tracciata dalla precedente amministrazione di limitare al massimo il ricorso alle forme contrattuali flessibili ed in particolare il contratto di lavoro a termine proprio con la finalità di contenere il fenomeno del precariato. La convinzione e la serietà con cui tale scelta è stata perseguita è testimoniata dal fatto che l'utilizzo del contratto a termine è stato da molti anni limitato al solo settore educativo e scolastico e solo quest'anno nella polizia municipale che ha visto l'assunzione di personale stagionale. Per di più le assunzioni a termine nelle scuole e nei nidi sono sempre avvenute solo per situazioni di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro, lavoratori in malattia, maternità aspettativa, temporanea in idoneità alla mansione e mai per la copertura dei posti vacanti. In tale logica tenuto conto delle cessazioni del servizio del personale educativo e scolastico, periodicamente il Comune di Rimini ha bandito negli anni dei concorsi pubblici per coprire i posti che si rendevano vacanti mediante assunzioni a tempo indeterminato. Per quanto riguarda la richiesta di stabilizzazione del personale precario consentita dal decreto legislativo 25 maggio 2017 numero 75, cosiddetto decreto Madia, va sottolineato come essa sia una delle possibili forme di copertura dei posti di organico che nell'ordinamento del lavoro pubblico a natura eccezionale in quanto derogatorio rispetto alla regola generale dell'accesso mediante concorso pubblico fissata dall'articolo 97,3 della nostra Costituzione. Da tale eccezionalità discende che il legislatore che l'ha introdotta ne ha circoscritta la portata applicativa non più del 50% della capacità assunzionale e ne ha limitata nel tempo la praticabilità consentendola solo negli anni 2018, 2019 e 2020. In proposito si deve osservare che la via maestra per entrare nella pubblica amministrazione, questa è vero una scelta politica, rimane il pubblico concorso previsto appunto dall'articolo 97 della nostra Costituzione. Non di meno nel necessario rispetto della regola del concorso pubblico il Comune di Rimini attribuisce importanza al servizio svolto con contratto a termine presso l'ente ed infatti in passato ha deciso di bandire un concorso per la copertura a tempo indeterminato di sette posti da insegnante scuola infanzia di cui tre riservati ai precari. Analoga scelta è stata fatta nel corso di quest'anno per gli educatori del nido. Infatti la informo che con tre distinte deliberazioni approvate nei mesi di aprile, settembre e ottobre, la Giunta ha deliberato di procedere alla copertura mediante concorso pubblico di 11 posti di educazione nido riservando il 40% dei posti ai precari del Comune di Rimini e cioè in questo caso 5 posti che alla data di scadenza del bando abbiano maturato un periodo lavorativo alle dipendenze del lento pari almeno a 36 mesi anche non continuativi. Sugli ausiliari del traffico con riferimento alla richiesta di bandizione di un concorso riservato finalizzato trasformare gli ausiliari del traffico oggi collocati in categoria B3 in agenti di polizia locale collocati in categoria C mediante progressione verticale osservo che anche questa modalità di copertura dei posti è derogatoria rispetto alla regola generale dell'accesso mediante concorso pubblico e per tale ragione al pari della stabilizzazione del personale precario in base al decreto legislativo appunto del decreto Madia il numero dei posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20% di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. Su tali limiti e sull'individuazione della procedura corretta gli uffici stanno lavorando e non hanno ancora formulato alla Giunta una proposta definitiva come è stato comunicato alle organizzazioni sindacali la progresione verticale degli ausiliari è un'ipotesi appunto su cui stiamo lavorando. Vorrei far notare che quella persona che parlava era entrata con il concorso del 2006 del 2008 ed era un concorso a tempo indeterminato come i concorsi al tempo determinato sono stati quelli del 2016 cioè sono personaggi che hanno già sostenuto un concorso e non è la prima volta che possono essere stabilizzati persone che hanno sostenuto un concorso per entrare nella pubblica amministrazione. Glielo dico perché l'ho fatto anch'io pari 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 all'agenzia del territorio. Pertanto è solo questione politica la Madia vi dà la possibilità di poterlo fare che poi non lo facciate è un discorso vostro ma condizione l'ha fatto e ha stabilizzato le persone che erano in questa situazione quindi non giriamoci i pollici e cerchiamo di nasconderci dietro i pollici. La vita è un'altra non volete assumere i precari dopo averli sfruttati per vent'anni.